Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Manca pochissimo al fischio d'inizio per Milan, Club Bridge, che si terrà alle 18.45. Saranno attesi ben 55.000 spettatori. Riusciremo a conquistare i primi tre punti? Incrociamo le dita. Non arriva neanche oggi la prima vittoria stagionale nella Yacht League dei nostri ragazzi della primavera. Hanno infatti pareggiato 1-1 contro il Club Bridge e salgono così in classifica a ben due punti, visto il pareggio nella scorsa partita contro il Liverpool. Il prossimo match li vedrà impegnati il 5 novembre contro il Real Madrid. Tra i convocati per stasera vediamo Camarda. Se dovesse entrare in campo questa sera, il sedicenne diventerebbe il calciatore più giovane della storia del Milan ad avere esordito nella competizione europea per club più importante. Ciò logicamente dipenderà soltanto da Fonseca. Queste sono tutte quante le news di oggi. Incrociamo le dita per stasera. Speriamo di divertirci. E io come al solito vi invito a venirci a seguire su tutti quanti i nostri social perché vi aggiorneremo di tutto quanto. e io come al solito vi invito a venireci a seguire su tutti quanti i nostri social